Buonasera a tutti, buonasera, ben arrivati, ben trovati a questa nuova puntata di Semi di Speranza sul Popolo della Famiglia TV. Sono Emanuela Pongiluppi Leuteri, insieme a Francesca Centofanti e a Barbara Moi, faccio parte della redazione di Popolo della Famiglia TV. Questa rubrica ha un'autrice che è Daniela Speranza, che ringrazio per questo servizio che offre in maniera così preziosa e un contributo così importante che dona a questa rubrica. Iniziamo con ringraziare i nostri Facebook spettatori a quanti si stanno collegando, a chi ci sta seguendo in streaming su YouTube o avrà occasione di seguirci in differita. Vedo che vi state collegando mano a mano che ricevete le notifiche. Approfitto anzitutto per ringraziare nuovamente gli ospiti delle precedenti puntate. Oggi siamo alla quarta puntata di Semi di Speranza. Ringraziamo in ordine di apparizione, per così dire, quindi partendo dalla nostra ultima ospite, che è stata Ania Golezinoska, la scorsa settimana e ha presentato questo meraviglioso progetto e questa associazione che si chiama Cuori Puri, che è nata grazie alla sua stessa esperienza di vita, come ha raccontato lei anche attraverso un libro, dall'inferno a questo cammino di conversione che ha intrapreso e che l'ha completamente fatta rinascere. Ringraziamo Sabrina Pietrangili che è stata con noi due settimane fa e ha presentato, ha testimoniato anzitutto la sua personale esperienza di mamma che ha vissuto una gravidanza difficile e grazie al suo affidarsi ha potuto creare l'associazione Quercia Millenaria che offre ancora oggi sostegno e aiuto a tutte quelle che si trovano a vivere e ad affrontare delle gravidanze cosiddette difficili. Ancora prima di Sabrina abbiamo avuto Marco Scicchitano che ci ha parlato ed è stato il nostro padrino del suo progetto Pioneer. Allora, tutte queste meravigliose persone, quindi Marco, Sabrina e Ania hanno promesso di ritornare. Noi invitiamo ogni settimana chi ci guarda, quindi tutti voi, a scrivere nei commenti delle puntate, sia in diretta o anche in differita, le vostre domande. L'invito che rinnoviamo questa sera è anche di spedire via Messenger le domande che vorreste porre agli ospiti che hanno promesso di tornare e comunque in generale se ci sono delle domande che vorreste sottoporre alla redazione di Semi di Speranza in merito a quelli che sono gli argomenti che andiamo ad affrontare perché abbiamo spiegato che Semi di Speranza è una rubrica che dà voce e visibilità anche a quelle associazioni che sul territorio nazionale svolgono un'attività importantissima di sostegno e di aiuto per tutte quelle persone che desiderano continuare a difendere i valori non negoziabili come in termini politici fa il popolo della famiglia. Questa sera abbiamo Luca Di Tolve. Luca Di Tolve è il nostro ospite di questa sera con il quale abbiamo provato a fare delle abbiamo fatto delle prove per vedere se Facebook ci assiste e da un punto di vista tecnologico riusciamo ad averlo in doppia diretta. Adesso vediamo, vi chiedo un attimo un momento scusa perché verifichiamo se la connessione, quindi l'ingresso da un punto di vista informatico da parte di Luca è possibile altrimenti opteremo per la soluzione che abbiamo messo in atto con Ania la scorsa settimana ovvero chiameremo Luca e ascolteremo dalla sua sola voce senza poterlo vedere che cosa ha da raccontarci rispetto a quella che è la sua esperienza di vita e soprattutto la meraviglia che ha potuto compiere attraverso il suo cammino. Non vi dico nient'altro. Intanto per quelli che stanno guardando vi chiedo un like, un mi piace, un condivido e un invita che è un modo per poter far partecipare quante più persone a questa rubrica e quindi diffondere il messaggio che stiamo portando, che vogliamo portare. Nel frattempo continuiamo a... vediamo un attimo se Luca io non lo vedo in diretta, non vedo Luca in diretta, però magari possiamo provare a chiamarlo al telefono. Intanto vedo che siete... no, non lo vedo Luca in diretta adesso, ancora non riesco a vedere Luca in diretta, quindi forse arriverà tra qualche istante. Confidiamo sempre nella provvidenza perché noi questo possiamo fare. Quindi aspettiamo che Luca si paventi, altrimenti proviamo a chiamarlo al telefono perché gli ho mandato un messaggio prima. Vediamo, intanto nuovamente vi chiedo un like e un condividi e quindi vediamo un attimo, proviamo a chiamare Luca. Allora, allora non risponde, vediamo un secondo. Un po' di pazienza. vi chiedo scusa. Allora, Luca probabilmente troverà la chiamata e ci richiamerà. dunque nel frattempo... eccolo qui. Io provo a chiamare... grazie Francesca, grazie, grazie mille. Allora, intanto provo a chiamare di nuovo Luca per vedere se magari non ha sentito il telefono prima. Eccolo, eccolo Luca. Ok, grande Luca, grande. Vediamo se riusciamo a fare questa magica cosa. Speriamo, vediamo, vediamo un po', vediamo se ci assistono e riusciamo ad aggiungerti e come voleva si dimostrare non ci riusciamo, però insensiamo un attimo. Dunque, abbiamo Luca che stiamo tentando di farlo entrare in diretta e vediamo un attimo, anzitutto grazie Luca per esserci, tesoro mio. Succede come oggi, che la connessione non riesce. Io continuo ad insistere perché comunque sai che non mollo nella maniera più assoluta. Tu sei pronto, sei operativo, io insisto, ma la connessione non riesce. Succede la stessa cosa che succedeva oggi pomeriggio. Ora, mi viene da suggerire, se sei d'accordo, tento un'altra volta e poi a questo punto provo a chiamarti. Metto in viva voce e tentiamo un'altra volta, Lucchetto. Guarda, perché tanto perseverare, no? Niente. Appare, cioè vedo che il sistema prova a inserirti, Luca. Il sistema prova a inserirti, ma non arriva ad entrare, è come se non riuscisse ad agganciare la cella, mi viene da pensare. Questa è l'unica spiegazione che mi sto dando, capito? Perché non è possibile. Allora, guarda, riprovo. Niente. La connessione non riesce. Guarda, è una roba che se lo racconti non ci credono. Ah, ecco, vedi, addirittura non puoi trasmettere. Ti chiamo a questo punto, Luca? Aspetta un po'. No, l'invio addirittura non... Aspetta, eh. Riproviamo un'altra volta. Riproviamo un'altra volta, perché io non mollo. Fa vedere... Niente. Ragazzi, a questo punto... Ah, ecco, non può trasmettere addirittura. Senti, Luca, io faccio una cosa, perché penso che la tua testimonianza sia importantissima. Quindi, ti chiamo. Grazie, bello. Eccoci, tesoro caro. Guarda, ti metto subito in viva voce. Grazie. Luca caro, grazie. Grazie per essere qui con noi, anche se solamente al telefono. Ci sei? Ci sei, Luca? Sì, ci sono. Ok, mi senti? Sì, ci sento. Perfetto, perfetto. Allora, almeno questo siamo riusciti a farlo. Io continuo a vedere la pallina nello schermo. Sono sicura che la prossima volta, perché tornerai tu, vero? Ma sì, certo. Anche per non darla vinta a Facebook, no? Che ci impedisce di averti qua. Eh, esatto. Esatto. Quindi anche fosse solo per quello, diciamo. Ma, chissà, magari nascerà qualcosa di importante. Eh? Sarà qualcosa di importante, evidentemente, che la fastidio è quello di tutto. Ah, ecco. Allora, diciamo, i due rosari che ho recitato io, voglio dire, sono condivisi anche da te, perché... Sì, sì. Luca caro, tu sai che Semi di speranza è una rubrica che sono un mese, è la quarta puntata questa. Quindi, innanzitutto, grazie per la disponibilità che ci stai dando e per questo tempo che concedi a Popolo della Famiglia TV. Noi abbiamo preparato un canovaccio. Questa è la bimba, sento la tua bimba. Sì, sì. Che io conosco... Sì, sì, perché nel frattempo, vedi, la tecnologia, è come se non c'è un cerottino sul piedino. Alza un po' la voce, Luca, perché non ti sentiamo. Ti sto mettendo un cerottino sul piedino, capito? Amore. Perché oggi bisogna imparare a fare tutto. Esatto, esatto, esatto. Ti stavo dicendo... Io poi tua figlia e tua moglie li ho conosciuto... Ho conosciuto prima loro di te, pensa. È vero. Eh sì, perché ci siamo visti da padre Massimo, due anni fa. E dunque, noi gli abbiamo mandato il canovaccio di questa puntata, la quale io, ormai Daniela lo sa, la nostra autrice lo sa, che io difficilmente, difficilmente riesco a seguire, perché non sono incapace di imparare le cose a memoria. Quindi, ti lancerei, diciamo, due o tre tracce, no? Essenzialmente, diciamo, la tua vita, la tua esperienza, grazie alle testimonianze che porti in giro per l'Italia, è nota ed è una grazia per tanti di noi. Quello che ti chiedo è... Ti va di parlare del gruppo Lot, cioè di come nasce e soprattutto del messaggio che il gruppo Lot vuole passare ai giovani e del messaggio che Luca di Tolve, attraverso il gruppo Lot e attraverso il suo libro, vuole passare ai giovani e a quanti vivono, magari in maniera inconsapevole, gli inganni di quello che è il mondo, che a me piace definire arcobalenato sbagliato, perché l'arcobaleno lì c'è un colore di meno, no? Come sai bene, quindi... Sì. Vai, alza la voce perché sennò in diva voce è un pochino più difficile, caro. Sì, guarda, allora, così va bene? Va benissimo. Ok, allora intanto saluto tutti quanti, quelli che ci ascoltano e quelli che ci ascolteranno. Allora, mi fai una bellissima domanda perché molto spesso si fa la testimonianza, si conosce così ma non si sa appunto cosa c'è dietro a questa associazione. Allora, intanto io stesso ho fatto circa 12 anni fa questo percorso. Questo percorso nasce da un pastore protestante americano che studiava Nicolosi, quindi il professore americano di psicologia. E poi ha deciso di fare questo corso, ha chiesto al suo pastore, perché allora lui era protestante, di poter fare comunque un'accoglienza alle persone, diciamo, che soffrono di problematiche di relazioni, quindi di omosessualità e anche a vari problemi, no? Perché oggi sai, i problemi nella sfera sessuale e relazionale sono tanti. Eh, certo. Però principalmente per quello, no? Allora lui ha iniziato con grande successo, perché poi sai, chi li ascolta a questi ragazzi? È ovvio che oggi se non c'è una pastorale per le persone omosessuali, li perdiamo, perché poi dove vanno? Vanno ovviamente all'Archigay, dove pian piano, con gli anni, è diventata sempre più forte, sempre più, come dire, un'associazione che ha la sua idea, il suo aiuto, e quindi molto spesso ci troviamo davanti a una società che non è in grado di capire questi ragazzi. Ma forse è una società, scusi, vai, scusami, ti ho interrotto, perdonami Luca, io partecipo a quello che dici, non so, sono brutto vizio, ti chiedo. Ma forse è una società che è proprio, che vuole essere sorda, mi viene da pensare, non una società che vuole, che sceglie di essere sorda, perché è questo, no? Sì, 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 perché, sai, adesso, purtroppo, anche un tabù è stato, perché ieri parlare di omosessualità sembrava una cosa, no, un tabù. Sì. E invece poi, per fortuna, come ti dicevo, questi studi americani sono andati avanti, e molto probabilmente perché in America sono molto più avanti a livello di scienza, e anche più liberi, no? Sì. E quindi, insieme a Nicolosi e ad altri, hanno poi fatto questo cammino, che è quello che poi faccio io oggi, che è di ascolto, di aiuto e di cristoterapia. Sì. Cioè, praticamente, lo psicologo fa la parte dello psicologo. Sì. Però, per esempio, a me non bastava, ma mi è piaciuto molto partecipare a questi incontri, perché insieme, non so, per esempio, si arriva fino a 20 persone, dove all'interno questi sono dei piccoli gruppi dove si condivide. Sì. Un po' per dirla, diciamo, diciamo una cosa un po' per far capire, ma non è così. È come tipo l'alcolista anonimi. Sì, sì, sì. Quindi c'è il gruppetto dove ognuno tira fuori. E sai, questi ragazzi non vengono mai ascoltati. E quindi, quando si ascoltano, noi che poi abbiamo questa esperienza, perché poi abbiamo fatto questo master in America, prima abbiamo fatto la testimonianza, poi siamo diventati aiutanti, e poi c'è stato in Italia, c'è stato questo gruppo americano che ci ha inserito e ne facciamo questo programma adesso ormai da tanto tempo. Ed è una cosa meravigliosa, perché, non lo dico io, ma perché in tanti anni funziona, e poi è un binario parallelo che va insieme alla psicologia. Quindi gli altri poi dopo continuano, ovviamente dopo aver fatto questo corso, poi lo psicologo. E quindi si è formato una sorta di community, di comunità virtuale, che comunque noi conosciamo poi tutti questi ragazzi nel tempo. Ormai sono circa un centinaio. Come se fosse una grande famiglia. Diventa una grande famiglia quasi, no? Sì, sì, sì. Pensa che proprio oggi, dopo aver creato anche delle famiglie, che ovviamente poi hanno fatto anche loro questo master, sono diventati, diciamo, bravi, e hanno fatto gli altri ragazzi a crescere. Oggi siamo più di una. Diciamo, ci sono un centinaio di persone, che comunque sono sposate, risolte, hanno figli. E oggi è appena nato, a Luca, chiamiamolo così, a Luca è nato, sono nati, aveva già tre figli maschi, e gli sono nati due gemelli. Quindi è una cosa che veramente a noi, questo è il motore che ci fa andare avanti, no? Quindi vediamo tanti video di questi bambini, e quindi non vediamo loro. Un po' per tutta Italia, perché io e mia moglie all'inizio abbiamo girato un po' l'Italia, dal nord e sud, c'è una nostra, chiamiamola gioventù. Siete due ragazzini, Luca, dai, io so quanti anni hai, quindi sei ragazzini, a voglia che dovete fare ancora, va, su. Dai, grazie per la fai di spirito, perché poi gli attacchi si sentono, le ernie. E vabbè, comunque no, è vero, dai, siamo ancora giovani, e quindi non sputiamo in faccia alle belle cose che il Signore ci ha dato. E quindi è bello, perché poi sai, si è restaurata, come dici tu, tante amicizie, tante persone che comunque hanno bisogno, no? Tanto è vero che poi io, alla fine, ho tantissime richieste, perché poi non riesco tutte a soddisfarle, no? Però ovviamente noi cerchiamo di fare il possibile. Poi c'è un progetto adesso che vorremmo riuscire a fare, speriamo che insomma il Signore ci aiuti a fare questo piccolo progetto, che sarebbe quello di poter fare dei master, dove poter insegnare agli altri, tipo le comunità, le parrocchie, il nostro programma, in modo che diventino qualcosa che poi, come delle cellule che si riproducono, lo possono fare tutti, ecco. Quindi diciamo, è come se, chiamiamolo format, è brutto e riduttivo? Sì, no, va bene, così si capisce. Esatto. Tranquillo, no, no, anche io parlo, sono pugliesi, mi piace parlare del papele, papele. Io ho un amore grande per la Puglia, perché ho vissuto in Puglia, a Viesse te l'avevo raccontato. Quindi diciamo, sebbene romana, io ormai vivo a Milano, perché il Signore, abbiamo un padre che è un sacco creativo e ha un senso dell'umorismo che capisce solo lui, però io sono di Roma, ho vissuto in Puglia per due o tre anni e sono innamorata di quella terra. Quindi papele, papele, lo capisco è come. E di Roma è andata da crescere questa faccia tosta tipicamente romana. Quindi, quello che arriva attraverso le tue parole è corregimi se sbaglio, il Signore ha permesso che io venissi attaccato nel corso degli anni. Nel momento in cui mi sono affidato a Lui, cioè nel momento in cui mi sono improvvisamente svegliato e mi sono messo nelle sue mani, è stato faticoso, perché voglio dire, tu hai affrontato anche una malattia con tutti i risvolti, ma non solo ho gustato io stesso, Luca, le meraviglie che il Signore ha fatto con me, quindi mi sono sposato, ho una figlia, ma gusto anche le meraviglie e i semi di quello che ho portato agli altri. È un po' questo che ci stai dicendo, Luca, perché io sento tanto entusiasmo, tanta gioia. proprio... Sì, 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 certo, certo. Poi, sai, noi siamo, no, scusami, io sono, io e mia moglie, noi siamo freschi, nel senso che comunque abbiamo avuto una conversione e quindi chi ha avuto una conversione secondo me ha, come dire, una sorta di voglia di ringraziare, no? Perché capiamo che comunque questo dono è un dono è un dono comunque grandissimo perché non ce l'hanno tutte le persone e quindi tante volte tu ti senti comunque disarmato davanti a un mondo che sempre di più crede in qualcos'altro ma non crede nella verità. Però, ecco, questo aver, come dire, avuto questo grande regalo da parte della Madonna, di Gesù, che ti dà quella spinta, quella voglia proprio che a me anche è un po' costato come dire tanto perché io capisco, no, sento anche tanti ragazzi, tante persone che si sono convertite e delle volte magari c'è questa voglia di gratitudine, delle volte magari mette anche a rischio la realtà, la propria vita, no? E invece poi il Signore capiamo che ci vuole felici, ci vuole veramente innamorati, ci vuole... non è un padre che ordina, un padre che ha delle, diciamo, leggi giuste come pensiamo noi, no, a livello umano, ma è un qualcosa che solo avendo una relazione con lui, no, capendolo, ti puoi innamorare, puoi vedere veramente quanto ogni giorno diventa sempre più bella la vita. Noi ai ragazzi, diciamo, non è l'omosessualità il problema e il problema è altro perché comunque ci sono tante cose che intercorrono e infatti poi quando riabbracciano perché poi il nostro è un programma, diciamo, di discepolato, di evangelizzazione, quando poi capiscono che c'è un padre veramente che ama e una madre come Maria che hanno questi esempi meravigliosi, tutto cambia, infatti non siamo noi, noi ovviamente offriamo le braccia, però loro sono veramente preoccupate perché come dici tu è molto difficile perché non ci sono poi gli stimoli esterni, non c'è un collante sociale, quindi è molto difficile non posso negarlo, però non è impossibile, è qualcosa che veramente poi se si vuole, perché noi non andiamo e non si può andare a cercare qualcuno che non vuole, però quando lo si fa veramente tu vedi queste persone trasformate e quindi è un grande regalo anche per noi poi anche se ci vuole tanta fatica, però poi li vedi veramente come diceva come si dice appunto nel Vangelo che sono completamente rivestiti di luce che sono trasfigurati e quindi come fai a dire di no? è una la vita è dura però è anche bello comunque ogni tanto vedere che questa è dura perché si ha tanti contro il mondo contro però è anche vero che c'è un altro un altro mondo quello che tu crei quello che cerchiamo tutti quanti insieme noi come te come altri che tentano comunque di sempre di far sì che tutti possano che l'intercessione possa veramente vincere quindi si spera che tutti possano bere quest'acqua e mangiare e mangiare questo pane e bere e abbeverarsi a questa fonte di purezza di acqua fresca a me viene questo da pensare mentre parli è faticoso sicuramente per quei ragazzi che sono stati immersi in un mondo oscuro nelle tenebre perché la tua testimonianza io l'ho ascoltata tante volte e la riascolto ogni volta mi emoziono piango cioè lo sai poi quando ci siamo visti a Brescia avevi visto io non è che nascondo le mie emozioni in una maniera più assoluta ma ogni volta rispetto a due anni fa quando ci siamo sentiti quindi ci sentiamo ciclicamente e ci parliamo e sento che continui ad avanzare cioè c'è nella tua voce e nelle non nelle parole ma proprio nella tua voce c'è ancora più luce è come se più avanzi più avanzi in questo cammino e più prendi forza non questa è la mia sensazione Luca ti ripeto magari posso sbagliarmi però lo avverto proprio avverto proprio grazie 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 al signore io guarda speriamo dai poi noi abbiamo sempre un'opinione di noi stessi che è sempre un po' farà lo spirito santo che comunque soffia esatto esatto comunque ecco questa è una bellissima opportunità mi dai perché comunque voglio ricordare a tutti ragazzi che di vivere a pieno di vivere di non fermarsi alle cose convenzionali ma veramente di credere di credere in che che proprio se si sentono nel profondo della pancia così ma però poi dentro sanno che comunque è qualcosa che non accetteranno che comunque non fa per loro che qualcosa che non li soddisfa pieno che non crea capito questa assertività perché è un po' come essere morti uso delle parole forti ma perché è la verità per noi no no sono ottime servono le parole forti a voglia vai vai e quindi se si vuole avere una vita piena non si può rimanere comunque nella superficie delle emozioni della come dire di questa chimera no che non si raggiungerà mai di questo amore di queste e quindi come ho detto non è facile ma non è neanche come dire impossibile perché come ho detto abbiamo tante testimonianze poi in America ormai ce ne sono tantissime purtroppo abbiamo contro un mondo che ha invaso diciamo diciamo che non più la politica ma anche non so per esempio il motore dell'economia hanno comunque invaso quelli che una volta potevano essere templi della saggezza della scienza che erano le università le scuole i mercati e quindi lì c'è un'invasione uno accende la televisione e se ne rende conto e questa è una dittatura come appunto dicevano molti che va combattuta non solo io sono sono sempre a disposizione però dobbiamo capire che ormai è entrato nelle nostre case è entrato nei nostri figli perché purtroppo i nostri figli io ho una bambina me ne rendo conto perché comunque anche per esempio nei cartoni animali in alcuni atteggiamenti negli show pensiamo a a Raiuno che ultimamente a Portobello ha fatto vedere un uomo che cercava un altro uomo e quindi veramente ci impongono questo omosessualismo che è veramente sempre più dilagante per non parlare poi del transensualismo che anche lì ho tante mamme credimi che mi chiamano disperate perché poi senza come dire anche protocolli di di sicurezza prima di ascoltare i ragazzi perché così dovrebbe essere mi dicono mia figlia ha 17 anni domani gli tagliano i speni mi aiuti perché io non posso fare niente e quindi c'è gente che poi non sa veramente come aiutarli invece gli altri corrono proprio per cercare di fare questo o come tanti altri ragazzi che comunque poi dicono mio figlio ormai ha raggiunto 17 anni ha trovato un uomo grande domani va a Londra capisci questi sono i problemi che noi ci troviamo come anche tutto il mondo e gli psicologi che sono ideologizzati quindi voglio fare veramente un appello agli psicologi agli educatori alle persone di studiare di mettersi di adoperare di avere anche quel coraggio no che è quello che caratterizzano i cristiani perché dobbiamo veramente oggi non si fanno sconti bisogna veramente educare e aiutare ne abbiamo tanto bisogno veramente il coraggio di grazie Luca il coraggio diciamo io personalmente e per esperienza per esperienza che sto ancora facendo ho purtroppo perso gran parte della stima che avevo e ho coltivato per tanti anni nei confronti dei psicologi proprio perché ho toccato con mano l'ideologizzazione di questa categoria e soprattutto il non coraggio nei confronti di un male dilagante che è esattamente quello che hai appena illustrato in maniera eccellente tu quindi io mi unisco al tuo appello faccio lo sottolineo in in grassetto quattro volte che chiediamo anche a chi non è cristiano no di voglio dire per noi che facciamo un cammino di fede tante tante azioni sono quasi oserei dire sottointese scontate scusami il termine magari svilente però forse rende l'idea quindi per noi è normale difendere l'integrità e l'innocenza dei piccoli ma i piccoli non sono solo i bambini di 3, 4, 5 anni dei piccoli sono tutti gli indifesi in genere l'appello è ancora più ampio nei confronti di quelle persone che hanno fatto la scelta di intraprendere un percorso di studi e di professione come la psicologia non ti parlo di psichiatria e neurologia perché lì sono medici la psicologia è diciamo l'interpretazione poi tendenzialmente ce ne sono tanti e molti perché ne ho conosciuti alcuni santi psicologi se vogliamo chiamarli così che si ribellano e comunque consapevoli della loro missione perché è una vocazione comunque ogni ambito professionale dal mio punto di vista è comunque una vocazione se la fai seguendo la strada della verità e della giustizia che non per forza deve essere quella cristiana perché comunque mi senti? Luca? Luca? pronto? sì eh ok sì ti sento ha fatto un bip un attimo al telefono ti stai dicendo per noi per noi che siamo cristiani io lo sposo totalmente il discorso che stai facendo tu amplierei questo appello anche a chi non crede e però però crede che il mestiere che fa dello psicologo è a vantaggio e in difesa soprattutto della mente delle persone quindi psicologi vi preghiamo vi imploriamo di proseguire in quella che è la vostra vocazione riconoscendo anche in maniera eh non cristiana i segnali negativi e manipolatori mhm di un piano che va a oscurare e a rendere confusiva la mente dei vostri pazienti forse no questo è noi sappiamo che voglio dire è l'ingannatore di quello del piano di sotto perché lui è però se vogliamo arrivare anche a no perché voglio dire a noi cosa dico no perché voi siete cristiani siete cattolici ma io posso farla con te pure se non sei anche se non credi il mio credere probabilmente è un modo di vivere senza il quale non saprei fare io sono in cammino di conversione sì sì no ma guarda poi ci sono comunque cioè il problema sai che cos'è che veramente a me dispiace è che ci sono anche c'è tanta argomentazione scientifica e quindi questo che è un grandissimo patrimonio non può essere buttato via esatto cioè il professor Nicolosi ha studiato per 35 anni e non è neanche voglio dire il personaggio più emerito quello più conosciuto capisci perché ha fatto comunque un coming out chiamiamolo così ci è uscito fuori allo scoperto in America e quindi come dire ovviamente è nato il ribalto sui giornali abbiamo Anderard come olandese abbiamo delle persone che sono state anche presidenti della APA associazione psicologica americana che hanno curato hanno aiutato queste persone a cambiare quello che non si capisce è che proprio nelle pari opportunità ci dovrebbe essere perché è una è una libertà di scelta perché non si capisce come mai se un personaggio faccio un nome perché lo conoscono tutti come c'è chitaone lo dico sempre possa cambiare orientamento come vuole un'altra persona invece non può da e può da da eterosessuale diventare omosessuale diventare un eroe della patria se uno come nel mio caso diventa capito da omosessuale diventa eterosessuale e lo prendono in giro e non ci credono è assolutamente capito questo è intollerabile perché la prima cosa che va tutelata è la libertà e quindi è un problema di libertà e quindi questo che voglio far capire bisogna lottare proprio perché tutti come stanno facendo gli insegnanti nelle scuole che stanno facendo rete perché non entriano quelle 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 porcherie della della pornografia del gender e di tante altre cose questa è una nota che oggi noi siamo chiamati a fare per fortuna c'è un risveglio diciamo rispetto a tanti anni fa però veramente dobbiamo capire che ne va proprio la nostra cultura la nostra specie la nostra ci sono dei poteri forti che vogliono a tutti i costi che credono ovviamente in altre cose e noi torniamo e questo è imperdonabile perché tutte le persone di buon senso non è essere solo cristiani questa è la nostra storia e quindi tutti potranno riconoscere che comunque all'interno c'è del bene soprattutto le persone intelligenti non parlo di molti che mettono le zizzagne per questioni magari politiche o cose ma si sa benissimo che noi comunque veniamo da lì e quindi abbiamo portato ricchezza abbiamo studiato i nostri sistemi economici per tutto quindi almeno questo che le persone che studiano le persone i giovani che fanno le tese che si scomplino ma è anche bello perché come dire stare comunque dalla parte come penso io nel periodo nazista con delle persone che comunque ti vogliono in qualche modo guidare ti danno un posto di lavoro pensando per esempio alle psicologi tentano come dire lottare muoversi tutti per dire non voglio perdere la poltrona che poi non è vero perché comunque cominciamo a fare squadra cominciate a fare oggi siamo nel mondo della comunicazione tu poi sei un esempio anche e quindi voglio dire l'aiuto poi si trova il Signore per chi crede aiuta l'intelligenza aiuta quindi dico non è che tollerabile che comunque tutte le persone non solo i medici ma veramente tutti che si diano da fare per aiutare sapicizie queste persone perché non è più una questione solo di omosessualità è una questione proprio di identità dei nostri ragazzi è generazionale è umana proprio Luca cioè è questo il punto è proprio questo che diventa non solo di questa generazione ma diventa perché è quella più giovane quella più attaccata io penso a tua figlia che ha quanti anni ha adesso la piccola 5 anni no? sbaglio ricordo male? si si 5 anni quindi l'hanno però si deve fare tra qualche minuto esatto 5 anni quindi il prossimo anno entra in prima elementare tua figlia nasce in un'epoca in cui non solo ha internet ma cioè tutti i dispositivi che negli ultimi 20 anni hanno fatto un balzo in avanti voglio dire fin troppo veloce fin troppo veloce e sono accessibili ai più piccoli e io dicevo la scorsa settimana con una mia sorella di comunità che è un sai un pensiero che mi è venuto così volante penso al fatto del telefonino noi tutti lo usiamo ma il telefonino che cosa ti costringe a fare? pensa al demonio come lavora la prima è arrivata la televisione la televisione è arrivata ce n'era una nel bar del paese si andava tutti insieme era ancora aggregante poi piano piano è entrata in casa in casa comunque era una televisione si guardava tutti insieme il film piuttosto che determinate trasmissioni poi le trasmissioni hanno cominciato ad essere tantissime i canali tantissimi le televisioni hanno cominciato a moltiplicarsi dentro le case quindi c'è la televisione in camera di letto in salotto in cucina e diventa il fulcro dell'attenzione poi è arrivato il telefonino il telefonino che cosa ti costringe a fare? a tenere lo sguardo basso mentre mentre Cristo cosa ci insegna ad alzare gli occhi ad andare a guardare verso l'alto e guarda ne parlavo con questa mia sorella e lei sai quando racconti così come lo stavo raccontando con te lei si è girata e mi ha detto si è illuminata mi ha detto caspita non ci avevo mai pensato ed è vero il dispositivo ci costringe io voglio dire vai in giro io vado in metropolitana in autobus se trovi una persona che ha un libro è un miracolo no? si si infatti non si legge più ma si guardano i dispositivi esatto e stai con la testa bassa tu pensa che poi noi lavorando con il contatto con i cert che ci mandano le persone che ci mandano anche i casi magari insomma ci parlano ci parliamo su alcuni casi ovviamente non possiamo prenderli però ci dicono appunto che oggi rispetto a prima che c'era la droga oggi i ragazzi sono drogati di telefonino nel senso che hanno proprio è una cosa impensabile ma è vero cioè sono praticamente diventati dipendenti da whatsapp ma non tu dici dipendenza ma non una dipendenza come dire così c'è una dipendenza come la droga cioè se tu lo tiri via questi stanno male fisicamente e quindi bisogna agire come 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 fanno con con le persone tossico dipendenti o persone che hanno comunque sempre a che fare con un telefonino per via dei videogiochi e quindi anche lì devi tagliere piano piano con questi social network che sono una grandissima ricchezza però non c'è una regolamentazione non c'è capito un un po' di rigore come c'era prima che magari a scuola mettete giù i cellulari cioè fanno perdere come dire lo stupore poi vivi come dici tu con la testa bassa senza rendersi conto di un cielo di un di liquidi di una spiaggia di qualcosa anche delle relazioni i ragazzi oggi non riescono a relazionarsi l'uno con l'altro no? esatto ed è molto difficile poi seguono tutti questi io non ho niente per carità penso che sia anche uno strumento molto molto bello molto intelligente però come dicevo come tutte le cose bisogna avere equilibrio no? purtroppo non c'è questi ragazzi che seguono questi ragazzini che sono youtuber che pian piano nascono così sembrano che nascono dal pasto ma poi pian piano quando diventano grandi anche loro diventano schiavi delle multinazionali perché fanno come dire fanno gola i brand e poi alla fine anche questi li vedi che sono nomadi digitali ma alla fine come diceva mio nonno alla fine anche se guadagni qualcosa adesso ma poi dopo cosa fai quando finisce la moda o finisce il problema rimani con un pugno di moschi in mano ma non tanto perché perché comunque l'esperienza ti fa girare tutto quanto va bene però perché non hai relazioni tu vedi questa gente però perché non se ne rende neanche conto ma è dipendente da questa telecamera no? quindi è proprio come fosse in carcere carcerata esatto esatto ti diceva anche i research testi stanno dicendo che appunto c'è un aumento di queste persone perché i ragazzi non guardano nemmeno più la televisione sì un po' ma sono tutti veramente in questo telefonino poi telefonino vuol dire tutto agganciato alla tv agganciato a youtube capito? no ti dirò ti dirò di più c'è proprio io guardo io sui social ci so perché voglio dire che tu sei meglio di me dobbiamo starci perché i giovani ovviamente sono lì le persone sono lì quindi dobbiamo starci però però essendo adulti e non essendo nati con con i social cioè noi social sono arrivati dopo quindi per quanto riguarda io ho 50 anni Luca quindi la mia generazione voglio dire io ho iniziato ad avere il computer internet dentro casa tra gli anni 80 e 82 nel 90 sono stata una delle prime ad avere internet perché mio padre voglio dire ha portato internet in casa ma anche l'utilizzo del computer così come la televisione a casa nostra dai miei genitori è stata trasmessa regolamentata cioè anche il guardare la tele noi avevamo io mi ricordo se andavo a letto dopo carosello vabbè insomma ne parliamo veramente il paleolitico però voglio dire avevamo il 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 cartone animato e poi un pezzo di un film cioè non era il proseguio i ragazzi che cosa hanno io ti personalmente voglio dire ho accesso accedo ho twitter ho gli account su tutti i social e poi seguendo ho due figlie di 12-14 anni quindi comunque vedo cosa guardano anche i ragazzi della loro età e oltre a youtube oggi c'è una frontiera in più che è instagram che cosa accade accade che tutti i social cioè facebook è superato per loro perché ci sono social che continuano ad implementare questa dipendenza dalla telecamera come dicevi tu oggi c'è instagram ed è esatto e poi ci sono tante piccole applicazioni e tiktok mi sembra che si chiama prima avevo un altro modo che poi dopo nascono queste applicazioni vengono comprate dai grandi brand lo sei meglio di me e poi vanno a finire sempre tutte in mano alle stesse persone perché poi sono sempre gli stessi che muovono i pulsanti dei social quindi sì certo ma c'è una volontà assolutamente io non posso come dire spiegare tutto però forse nel mio prossimo libro lo farò che è quello di voler comunque tenere in mano il controllo da parte di queste grandi società parlando di google e anche di windows di poter ottenere tutto il controllo da parte loro il famoso chip chiamiamolo così esatto perché lo vediamo anche nel lavoro tipo la fatturazione elettronica è stata comunque una botta di come dire nel fianco per qualsiasi lavoratore quindi vediamo comunque che questo metodo di globalizzazione perlomeno fa discutere e quindi è proprio come dici tu c'è toglie la pace io vabbè solo perché ho avuto la mia conversione a Medjugorje quindi ne devo molto e il genno e i messaggi della Madonna che tra l'altro sono bellissimi tante volte la Madonna dice che appunto la televisione i schermi proprio non ti danno più la pace per poter pregare perché come si sa poi che vedi poi anche il grande inganno è questo poi come fai a rimanere fermo davanti all'adorazione o fermo una messa o ad ascoltare l'altro cioè vedi stanno cercando di distruggere tutte le basi no? e noi che sappiamo comunque che tutte queste come dire invenzioni vengono da quello di sotto è perché oggi si è persa comunque quella scienza con coscienza no? quella scienza quindi se ci fosse veramente in tutti i campi questa coscienza che sempre ha fatto l'uomo bello no? quindi io spero che ritorni questa bellezza questa piatta anche come dici tu anche se non sono cristiani non ci vuole molto capire perché vedere comunque oggi possiamo tendere tutti una mano per far sì che questa società comunque diventi sempre migliore partendo da noi da noi che siamo comunque attivi che siamo comunque vogliosi ma tutti hanno la chiamata perché comunque il cristiano non può sedersi no? sugli allori deve essere un cristiano attivo e quindi deve veramente amare perché poi altrimenti come dice nella parola ci vomiteranno e quindi o caldi o freddi nessun tiepido anche nella nostra vita esatto scusa dicevi? stavo dicendo o caldi o freddi tiepidi no? esatto cioè sì cioè abbiamo non ci manca niente abbiamo praticamente costruito con l'amore veramente della nostra sede tantissimi borghi intorno dove è nata la chiesa se pensiamo non so a tutti quei borghi che sono intorno a Roma in Toscana che ci sono da tutte le parti no? eh ma c'è l'Italia esatto i presepi che tutto il mondo ci invidiano e quindi che poi adesso pian piano stanno anche scomparendo perché l'uomo pensa ad altro no? invece forse guardando un presepe visto che siamo a Natale dovremmo ricordarci qual è la vera atmosfera che bisogna creare per essere una società più giusta e io poi ringrazio voi perché comunque ammiro le persone che comunque ci provano è veramente questo vi fa vi fa onore quindi a tutti quelli che ci ascoltano ecco che veramente si sentino carichi che si sentono veramente dei soldati di Cristo perché quello che fate cambierà veramente la nostra sta già cambiando la nostra società e quindi per me è sempre una gioia incontrare poi le persone e se il Signore a me mi ha dato questa possibilità è una bella avventura come dicono spesso no ma Luca prega fai dicono no no comincia tu perché Gesù vuole bene a tutti non è che a me mi ha messo bravo la perché no cioè Dio vuole tanto bene noi capissimo quanto veramente ci ama piangeremo come dice la Madonna no se sapesse quanto vi amo piangereste di gioia io questa frase ce l'ho scolpita pensare solo questo che lui è morto perché vuole eternamente portarci con lui cioè neanche gli angeli possono veramente nutrirsi dell'eucaristia fare determinate cose cioè è pazzesco e quindi veramente se noi questo clima natalizia ci scopriamo no che veramente l'unica verità no come voi proprio realizzate in pieno in questo che è la famiglia perché nella famiglia sei sicuro perché nella famiglia sei comunque per quanto se ne possa dire dove si va quando si ha sempre bisogno quando sei certo è la famiglia per quello la vogliono distruggere e quindi veramente dobbiamo puntare alla famiglia puntare alle nascite puntare a fare stili perché quello che dicevi tu anche se ci sono figli perché non li vogliono perché ovviamente disturbano questo piano dei telefonini e di altre cose che vabbè abbiamo parlato di quello ma c'è tanto da dire però se ci sono i figli fai come una volta i ragazzi giocano oggi mia figlia non è che puoi giocare tanto con i ragazzi di fuori perché non ce n'è non ce n'è e quindi bisogna veramente sbrigarsi perché l'Africa cresce ed è giusto che cresca perché loro hanno un grandissimo come dire forza di d'animo nonostante abbiano quella quella macchina di distruzione di massa che veramente speriamo che un giorno finisca però anche noi non è che perdiamo e quindi veramente auguro a tutti di cuore di lottare di lottare di lottare perché la guerra non è finita siamo tutti soldati dello stesso esercito Luca sì siamo rivestiti dell'armatura di Cristo lui ci dà la forza e noi combattiamo fianco a fianco la guerra la grande guerra perché è una guerra voglio dire la terza guerra mondiale come ha detto Papa Francesco qualche tempo fa questa è la guerra mondiale questa è la terza guerra mondiale ed è una guerra ancora più cruenta vedevo i numeri qualche giorno fa di Planet Parenthood 7 milioni di aborti ragazzi cioè sono dei numeri sono città intere quelli resi noti quelli resi noti quindi voglio ipotizzare che ce ne siano il doppio se non il triplo è certo che non ci stanno bambini ed ecco perché voglio dire noi come movimento politico stiamo raccogliendo le firme per questa proposta di legge che è rivoluzionaria Luca è rivoluzionaria e tornando al discorso che voglio dire hai affrontato tu dall'inizio ovviamente sono tante le subdole manovre di quello del piano di sotto quindi oggi abbiamo dato tanto ci hai concesso questo tempo che è comunque una grazia e quindi è comunque qualcosa di prezioso ovviamente tornerai perché non è che voglio dire dobbiamo andare in onda in doppia diretta ovviamente Luca perché io non dico mai di no guarda ho cento persone che mi aspettano di là perché è la verità però sono veramente contento sempre di poter parlare e parlo sempre con chiunque perché alla fine Gesù deve essere proprio esaltato e portato la verità va detta sui pezzi e quindi veramente ringrazio te ringrazio veramente tutti gli ascoltatori e auguro anche tanto tanto bene tante buone feste che adesso si avvicina Immacolata al Natale quindi questo può essere un'occasione veramente per meditare per essere più vicini alla verità alla luce si mi senti? si si ti sento ti sento Luca ti sento Luca io ti ringrazio infinitamente anche a nome della redazione poi vedrai io all'inizio della rubrica noi ti abbiamo abbiamo taggato sia la pagina gruppo la hot che il tuo profilo facebook quindi poi se potrai autorizzare o condividere o girare la diretta in maniera tale che anche questa questa puntata arrivi a più persone concludo e ti saluto con con questa porto voglio dire le piccole i piccoli frutti che questa piccola rubrica fatta da questa piccola pagina facebook sta portando ho sentito ho visto una persona la scorsa settimana che aveva seguito indifferita la puntata con Ania lei è venuta da me e mi ha detto grazie perché quella testimonianza ha parlato alla mia vita allora credo che esatto ma non è cioè proprio allora se questa rubrica diventa uno strumento per poter diffondere testimonianze e opere perché tu fai qualcosa di concreto cioè attraverso il gruppo lot voi fate qualcosa di concreto e ce ne hai parlato in maniera molto dettagliata inizio rubrica Ania fa qualcosa di concreto con cuori puri Sabrina fa qualcosa di concreto con quercia millenaria Marco Scicchitano attraverso il progetto Pagnioli quindi sono tutte persone che affidandosi no producono tra virgolette se vogliamo cioè concretizzano il messaggio e arriva quindi io ringrazio solo il Signore se in qualche modo riusciamo anche solamente una persona che dice quello che ho ascoltato ha parlato alla mia vita penso che abbiamo voglio dire abbiamo già raggiunto cioè siamo già contenti più delle visualizzazioni più delle persone in line perché comunque l'obiettivo è proprio questo è quello di parlare alle persone ma sì perché guarda poi io alla fine ci credo poi l'ho anche visto e sentito alla fine vinceremo perché la verità vince sempre quindi forza e coraggio e veramente grazie per l'opportunità grazie a te ti do un bacio grande 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 a tua moglie e alla bimba e vai dai tuoi ospiti Luca grazie per questo tempo grazie ciao tesoro ogni bene a tutti ogni bene anche a voi ciao cara grazie grazie mille ciao caro ciao bello allora grazie a tutti perché vedo tantissimi commenti ovviamente io sono molto compartecipe quando ascolto i nostri ospiti quindi in coda a Luca che ringrazio nuovamente a nome di Francesca a nome di Barbara a nome di Daniela Daniela la ringraziamo tutti noi Daniela Baldanza per i testi e per la pazienza che ha nello scrivere nel contattare le varie associazioni ringraziamo Luca ancora una volta vi invitiamo a condividere questa diretta e a chi l'ascolterà indifferita a diffonderla ancora di più io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre alle 18.30 popolo della famiglia tv semi di speranza un bacio grande a tutti e buona immacolata concezione ciao ciao